Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Udinews TV. Vedremo le prime pagine dei giornali, i titoli dei quotidiani nazionali e locali e approfondiremo gli articoli di maggior interesse, tra i quali quelli di sport, perché ieri hanno anticipato la partita di campionato sia l'Udinese che il Pordenone, Udinese che ha perso a Milano 1-0 contro l'Inter, il Pordenone che invece ha vinto in casa contro il Gubbio e continua la sua corsa in vetta alla classifica del girone B della Serie C, oggi è il turno della GSA, quindi tanti argomenti da trattare, prima di tutto però iniziamo con le informazioni sul meteo, con Eleonora Nocent, le previsioni di oggi. Ben ritrovati con le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di domenica 16 dicembre. Al mattino cielo poco nuvoloso e in giornata possibile aumento della nuvolosità a partire da ovest, rimarrà piuttosto freddo e nella notte verso lunedì possibili deboli precipitazioni, forse qualche nevicata anche a quote basse. Le temperature Sulla costa, meno 1, 3 gradi di minima, 4, 7 gradi di massima. In pianura, meno 4, meno 1 grado di minima, 3, 6 gradi di massima. A 1000 metri, meno 3 gradi e a 2000 metri, meno 6 gradi. Una rivederci a tutti e alle previsioni meteo di domani. Vediamo uno sguardo anche alle informazioni che arrivano dal sito Info Viaggiando, il sito di Autovie Venete, per un avviso importante. Da ieri sera c'è una chiusura di alcuni tratti, una chiusura che permanrà fino alle 10 di questa mattina, sulla A4 Venezia Trieste, dalle 21 di sabato 15 dicembre alle 10 di domenica a 16, chiusura Portogruaro, Bivio A4 a 23, direzione Trieste-Udine e Latisana-Portogruaro in direzione Venezia. Questo quindi importante avviso da parte di Info Viaggiando, di Autovie Venete. Il tratto, vedete, interessato da lavori per la terza corsia che prevederà dei rallentamenti. Qui abbiamo anche altri avvisi in direzione Trieste. Lo svincolo è chiuso in entrata a San Giorgio di Nogaro. Quindi alcune situazioni da monitorare per chi si mette oggi alla guida in viaggio verso Venezia. Qui A4 invece in direzione opposta Torino-Trieste, direzione Torino. Eccola qui, la tratta con l'area di servizio di Fratta Nord che rimane chiusa. E andiamo ancora a vedere un ultimo avviso, sempre sulla A4 a Torino-Trieste, questa volta in direzione di Trieste. Corsie ha larghezza ridotta a causa dei lavori in corso fra Portogruaro e Palmanova. Questi sono i consueti avvisi che troviamo ogni giorno che riguardano i lavori per la terza corsia. E adesso andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani nazionali. giornate frenetiche per quanto riguarda la manovra economica. Il governo anche oggi si unirà a una riunione ristretta per continuare a ritoccare la manovra dopo che il Premier Conte ha avuto dei colloqui con l'Europa. Si cerca di evitare la procedura di infrazione per il nostro Paese. Andiamo sulle prime pagine dei giornali che tuttavia si occupano anche di altro. Cominciamo con la Repubblica che titola l'Università, le Università unite per Antonio. Gli Atenei adottino la sua radio, lo sfortunato giornalista italiano morto nell'attentato di Strasburgo, ucciso a Strasburgo Antonio Megalizzi e quindi si chiede a gran voce che le Università diano un segnale proprio per ricordare questo ragazzo che con tanta passione aveva intrapreso questa attività, questa carriera giornalistica e credeva nell'Europa più unita e più equa. Gli Atenei adottino la sua radio. La proposta dei rettori eurofonica, emittente dell'Unione Europea e Draghi agli studenti rilanciamo il sogno europeo. Questo è il titolo di apertura del quotidiano La Repubblica che poi dedica a centropagina questo richiamo con la foto di Anna Montes, capo missione della nave Open Arms. La colpa di Anna a salvare vite in mare per l'Italia. si chiama violenza privata e è il discorso ovviamente che fa riferimento ai salvataggi in mare delle navi, delle organizzazioni non governative che spesso vanno in soccorso dei migranti che tentano di raggiungere l'Italia con barconi, con imbarcazioni di fortuna. Andiamo sul quotidiano libero. L'apertura è sulla legge del taglione che pende sul governo. Questo è il titolo. Non ci sono soldi per tutto. Movimento 5 Stelle e Lega dovranno mollare sul reddito di cittadinanza e pensioni ma nessuno vuole cedere. Questo crea una situazione pre-crisi. Conte alla canna del gas. Va a farsi benedire dal Papa. E poi qui al centro c'è una foto di Giorgetti. Giorgetti ha un unico difetto, non è cretino e fa cose giuste. E qui lo vediamo davanti ad uno scudetto stemma dell'Italia. Ricordiamo che Giorgetti è anche colui che sta cercando di portare avanti un'idea di riforma del CONI, quindi dello sport italiano. Un'idea che ha fatto infuriare il Presidente Malagò qualche settimana fa. Malagò si era lasciato andare anche a dichiarazioni molto forti, parlando addirittura di fascismo. Draghi parla chiaro, l'euro in alcuni paesi ha fallito. Quindi parla il Presidente della Banca Centrale Europea. L'italiano Draghi pone l'accento su una situazione sempre molto attuale, il dibattito sempre molto attuale sull'euro e sulla moneta europea che non in tutti i paesi ha avuto gli effetti sperati. Andiamo a leggere adesso il giornale. Il giornale in apertura titola Investiti dalla Panda. La Lega vuole cancellare l'ecotassa rissa con i 5 Stelle. Manovra il reddito si rimpicciolisce. Domani o al massimo martedì approderà a Palazzo Madama il maxi emendamento correttivo della legge di bilancio, così come è suggerito da Bruxelles. Ma sul reddito, pensioni ed ecotassa è scontro. E proprio sul tentativo di trovare una quadra a questa situazione ci sarà l'incontro di oggi di cui vi parlavo in apertura per portare poi domani o al massimo martedì a Palazzo Madama il maxi emendamento. Mentre Lega e 5 Stelle litigano, la Lega non vuole l'ecotassa. Il momento 5 Stelle dice attenzione perché era nel contratto di governo e qui vediamo Conte dal Papa, la megalomania di Conte dal Papa. Noi siamo due riformatori e qui vediamo la foto dell'incontro tra Papa Francesco, Orge Bergoglio e il nostro Premier Conte. Poi in basso, a centropagine, il giornale si occupa ancora di Di Maio e delle problematiche del papà. Papà Di Maio si arrende, ruspe sulle case abusive. Questa è la prima pagina del giornale. Andiamo sul Corriere della Sera. L'apertura è Lega, Movimento, 5 Stelle, Lite su tre fronti. Ecotassa, reddito, pensioni, stasera Nuovo Vertice, Roma, l'Unione Europea non forzi, allarme di Draghi, dilaga il fascino dei regimi illiberali, l'Europa è importante. titolo quindi sulla situazione economica sia dell'Italia ma in generale nel contesto europeo, l'apertura del Corriere della Sera. Andiamo invece in basso a vedere questa fotonotizia. Parigi, il quinto sabato di manifestazioni dei gilet gialli contro Macron. le Marianne a seno nudo, ma la protesta è in calo. Sono scesi in strada a seno nudo, vestite da Marianne, per protestare insieme ai gilet gialli ieri a Parigi. Ma il quinto sabato consecutivo di manifestazioni antigovernative non è stato un successo. A Parigi c'erano più poliziotti, 8 mila, che manifestanti, 3 mila. Quindi sta calando la portata della protesta che tuttavia va avanti e che ha avuto comunque successo perché ricordiamo che il Presidente Macron ha fatto un passo indietro su alcune delle riforme che voleva attuare, un campo fiscale in particolare che avrebbe rinciso poi sul mondo del lavoro e dunque ha fatto un passo indietro e si può dire che la protesta ha avuto successo e sta adesso diminuendo la portata dal punto di vista della partecipazione. Andiamo sulla stampa che apre con le problematiche di manovra. la ecotassa in particolare e con Salvini che stoppa l'idea grillina non siamo il governo degli aumenti stasera vertice con Conte e Giorgetti rassicura i fondi sui conti pubblici. Qui in alto provocazioni e concerti le regole della musica trap l'inchiesta trap o trap se vogliamo qui vediamo un'immagine di un concerto con la partecipazione di migliaia di giovani in particolare riferimento a quello che è accaduto nelle Marche con la morte di sei adolescenti che erano andati a sei adolescenti anche di una mamma di 39 anni che erano andati a seguire il concerto del rapper Sfera e Basta. Andiamo a leggere il manifesto che pubblica in prima pagina una foto di Salvini, Di Maio e Conte con il titolo Edittoria Grillini e Leghisti litigano su ecotassa e pensioni ma il Senato gira a vuoto sulla legge di bilancio il governo pronto a imporre come un editto il testo direttamente in aula con la fiducia Parlamento scavalcato anche sul pesantissimo taglio ai fondi per il pluralismo nell'editoria e qui il manifesto dunque gioca sul titolo per ricondurre anche al discorso dei contributi per l'editoria per il settore dell'editoria che potrebbero subire un pesantissimo taglio a Roma la protesta contro il decreto Salvini non siamo criminali siamo schiavi schiavi mai hanno urlato i braccianti i lavoratori della logistica i lavoratori migranti nella manifestazione di 5.000 persone che gli era percorso il tragitto tra Piazza della Repubblica al Campidoglio a Roma organizzata dall'unione sindacale di base da potere al popolo e da numerose associazioni antirazziste centri sociali al corteo che ha sfidato il gelo della capitale hanno aderito anche delegazioni della coalizione internazionale San Papier migranti rifugiati da Francia Belgio e Spagna quindi ampia partecipazione a questo corteo andiamo sulla verità l'apertura è per la morte del giovane giornalista italiano Antonio Megalizia a Strasburgo l'ha ucciso un terrorista islamico non un sovranista anti-unione avvoltoi su Strasburgo incredibile speculazione sul corpo di Antonio Megalizia sentire media e politici italiani parrebbe essere vittima di chi contesta una certa forma di Europa anziché del fanatismo di chi odia l'Occidente la Bonino ne approfitta per fare propaganda al suo partito l'articolo è firmato da Maurizio Belpietro che è il direttore della verità qui vediamo una foto di Antonio Megalizia colpito e ucciso nell'attentato di Strasburgo al centro Renzi svolta nell'inchiesta per Bancarotta sviluppi clamorosi per i fallimenti di Marmodi e Delivery i cui amministratori di fatto secondo gli inquirenti sono i genitori dell'ex premier decisivo anche il ruolo di Mariano Massone già indicato con Tiziano a Genova quindi sviluppi sull'inchiesta che riguarda la famiglia Renzi per quanto riguarda in questo caso il discorso di un fallimento i cui amministratori di fatto sarebbero come scrive la verità i genitori dell'ex premier chiudiamo con le prime pagine nazionali andando a dare uno sguardo al sole 24 ore quotidiano economico finanziario rush finale Roma Unione Europea si tratta su 3 miliardi ma ne perdiamo 1,5 l'intesa è vicina ultimo nodo il deficit strutturale il nominale resta a 2,04 flessibilità per 2,5 miliardi a rischio fondi europei non spesi sembra avvicinarsi alla addirittura finale alla trattativa tra Unione Europea e Italia su una manovra l'intesa sul deficit al 2,04 c'è ma per garantire la mini riduzione del disavanzo che si calcola a Bruxelles serve ancora limare due decimali di PIL circa 3,6 miliardi intanto l'Italia rischia di perdere 1,5 miliardi di fondi strutturali dell'Unione Europea ministeri e regioni in ritardo sulla spesa questo è uno dei paradossi poi ci lamentiamo dell'Europa l'Europa stanzia fondi per lo sviluppo dei paesi dell'Unione e alcuni paesi tra i quali l'Italia non riescono però a spenderli e quindi rischiano di essere richiamati questi fondi alla base l'Itemovimento 5 Stelle Lega auto elettriche ora in forse anche il bonus sono 300 i milioni che 5 Stelle dovrebbero trovare per salvare l'incentivo dopo che la Lega ha bloccato l'ecotassa quindi siamo in una situazione davvero di braccio di ferro tra le due componenti del governo giallo-verde Draghi progetto europeo baluardo contro il fascino dei regimi illiberali notizia e dichiarazione che abbiamo letto anche su altri quotidiani questo è il quadro che abbiamo potuto mostrarvi dai principali quotidiani nazionali adesso passiamo alla lettura dei giornali locali poi apriremo la pagina dello sport nella seconda parte di questa rassegna allora la prima pagina del messaggero Veneto edizione di Udine l'apertura è sulla strage in Austria si cercano i moventi tra vecchi rancori e problemi economici l'avvocato dell'assassino confessa odiava suo padre come la peste il cordoglio nella bassa per l'uccisione di Margherita Cassis Faraone qui vediamo il lungo fiume dedicato alla famiglia della nobile assassinata odiava suo padre come la peste il conte Anton Guss accusato del triplice omicidio consumato giovedì scorso non aveva motivo di ammazzare la contessa che ha pagato con il prezzo della vita un'unica colpa quella di trovarsi accanto al marito il conte Ulrich Guss Edzenberg nell'attimo di follia del figliastro che ha ucciso con un fucile a pallettoni due anziani il fratello Ernst che pure amava come ha riferito ieri l'avvocato Peter Philipp che difende il killer si punta alla semi infermità mentale in alto sotto la testata c'è anche spazio per lo sport che però come ho detto approfondiremo dopo rigore di Cardi e l'udinese sbanda qui invece vediamo le parole del questore di Udine Claudio Cracovia aumenta tra i giovani il consumo di droga contrastare sia con l'attività quotidiana su strada lo spaccio di stupefacenti qui la foto del questore Cracovia poi in alto si parla della manovra regionale che è stata approvata ieri sicurezza famiglie tasse la palla di vetro è roba da cartomanti per cui soltanto il 2019 dirà se la legge di bilancio approvata all'alba di sabato dal centro-destra sarà stata utile o meno al Friuli Venezia Giulia vediamo il servizio che abbiamo realizzato ieri su questo argomento quello della manovra del Friuli Venezia Giulia che abbiamo trasmesso anche nei nostri telegiornali vediamo quando ormai erano passate le 6 del mattino dopo una lunga maratona iniziata martedì con 28 voti favorevoli 10 contrari e 3 astensioni quelle del Movimento 5 Stelle l'Aula del Consiglio regionale ha approvato la legge collegata alla manovra di bilancio con 28 voti favorevoli e 13 contrari ha detto sì anche alla legge di stabilità via libera pure infine al bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 una finanziaria che pareggia per il 2019 a oltre 7 miliardi di euro di cui 3 destinati alla sanità sono particolarmente soddisfatto ha commentato il governatore Massimiliano Fedriga subito dopo l'approvazione ringraziando i colleghi di giunta siamo riusciti a costruire le fondamenta per il futuro della nostra regione ha dichiarato Fedriga impostandolo su colonne portanti quali l'abbassamento della pressione fiscale per incentivare le imprese il piano straordinario con 319 milioni di euro di investimenti per lo sviluppo le politiche sociali che riportano al centro la famiglia e ancora misure per il lavoro il modello sanitario con maggiori servizi e vera razionalizzazione della spesa risorse alle autonomie locali con i comuni nuovamente protagonisti e infine una decisa ripartenza per trasformare i danni del maltempo in opportunità di crescita l'asilo nido gratis dal secondo genito in poi le misure rivolte al reinserimento occupazionale dei lavoratori esclusi così come le politiche attive per stabilizzare precari e incentivare chi assume donne con figli sotto i 5 anni 70 milioni di euro agli enti locali oltre 65 milioni di euro per i danni del maltempo che andranno ad aggiungersi ai 10 precedentemente assegnati e ancora 10 milioni per la sicurezza 3 milioni e mezzo per il ristoro dei soci truffati da Coop e Copca con questa stabilità la giunta Fedriga ha fallito il suo primo vero banco di prova dopo mesi di annunci e promesse ha dichiarato invece il capogruppo del PD Sergio Bolzonello in questi giorni ha giunto abbiamo discusso una non finanziaria che affossa settori determinanti per lo sviluppo della regione come l'economia e le infrastrutture discriminando e poi mettendo in difficoltà migliaia di persone nel settore del welfare questo è il servizio che ha riassunto i termini le cifre anche della legge di stabilità per il Friuli Venezia Giulia approvata ieri noi continuiamo adesso con l'altura dei quotidiani andiamo sulla pagina di Udine la prima pagina tra le pagine dedicate alla cronaca della città sempre sul messaggero Veneto e che apre con l'intervista che è stata richiamata anche in prima pagina al questore Cracovia quest'ora aumenta lo spaccio di droga è preoccupante la diffusione tra i giovani Claudio Cracovia a tutto campo dalle priorità all'indagine alla collaborazione con le altre forze sul territorio lo sforzo maggiore in quest'ultimo anno è stato nel quartiere delle Magnolie il Friuli resta una terra in cui vivere serenamente ma non è più un'isola felice questo è uno degli incisi riportati dal messaggero estratti estrapolati dalla lunga intervista che è stata che è stata realizzata con il questore leggiamo anche il passaggio su questa domanda che riguarda la sicurezza che oggi conta anche sulle tecnologie sulle telecamere non solo cosa si potrebbe migliorare ha chiesto il messaggero al questore la risposta è questa data alla collega Anna Rosso per ciò che riguarda il potenziamento della videosorveglianza siamo da tempo impegnati in un dialogo con le varie amministrazioni comunali per suggerire loro una svolta qualitativa che tenga presente innanzitutto il fatto che le attuali risorse umane non consentono che qualcuno guardi sempre i monitor quindi servono sistemi intelligenti che riescono a richiamare l'attenzione degli operatori delle centrali e di quelli sul territorio su situazioni ritenute anomale o di allarme per poter poi intervenire in maniera tempestiva questa la pagina dedicata all'intervista al questore andiamo avanti ancora su Udine per parlare di viabilità anche c'è un articolo di Alessandro Cesare qui a pagina 22 una metropolitana leggera sarebbe più efficace del tram Alessandro Verona limitato pensare ai soli utenti del centro e agli universitari la proposta del sindaco è un passo verso il futuro non un ritorno al passato mercoledì in sala Ayashi incontro con il primo cittadino ed esperti di SAF l'azienda che gestisce il trasporto pubblico cittadino e gli esperti dell'università qui a destra invece l'emendamento al Senato per ottenere si spera 2,8 milioni per il Palamostre di Udine nella manovra è stata acquista questa cifra la senatrice Roic del Partito Democratico dice per realizzare un teatro di prosa l'edificio verrà ampliato negli spazi dell'ex Gamud questo il titolo dell'articolo la pagina 23 che si occupa di questa possibilità che il Palamostre venga ampliato grazie a 2,8 milioni di euro inseriti nella finanziaria lasciamo adesso il messaggero per spostarci sul quello di Udine per spostarci su quello di Pordenone la prima pagina dell'inserto interno del quotidiano edizione di Pordenone domani via alle code nella chiesetta per cambiare medico di famiglia tutto è pronto a Santa Maria degli Angeli saranno chiamate a tale adempimento mille persone test di capienza per i locali adibiti nell'ex cappella andiamo in basso a leggere invece dell'iniziativa Banco Farmaceutico per gli animali è stata una iniziativa che ha ottenuto subito un lusinghiero successo come scrive qui il messaggero Veneto in una settimana sono state raccolte 35 confezioni di farmaci veterinari fra prodotti nuovi e inutilizzati un segnale importante da parte di chi è sensibile nei confronti degli animali la raccolta prosegue anche oggi questa è la prima di Pordenone poi torneremo a parlare di Pordenone quando ci occuperemo di sport con la formazione di Tesseri in testa della classifica grazie all'ennesimo successo ottenuto ieri contro il Gubbio andiamo sul piccolo di Trieste il quotidiano di Trieste titola in apertura sulla morte dei due escursionisti dei quali abbiamo seguito la vicenda che purtroppo si è chiusa con un epilogo tragico del recupero morte da caduta o assideramento la montagna non svelerà il mistero solo l'autopsia potrebbe chiarire cosa è successo ai triestini ma il pubblico ministero rinuncia le salme intanto rientrano e potrebbero essere messe a disposizione della famiglia per i funerali molto presto e si aspetta soltanto nulla osta del pubblico ministero nulla osta definitivo a questo punto soltanto la famiglia potrebbe richiedere l'autopsia per capire quello che è successo per avere maggiori indicazioni su quello che è successo ma non è scontato anche in caso di richiesta da parte della famiglia che venga dato l'ok all'autopsia perché per l'esame autoptico serve che ci siano alcuni dubbi di rilevanza penale cosa che sembra non essere parte di questo caso non far parte di questa situazione dove la dinamica sembra abbastanza chiara cioè sono scivolati probabilmente ma non si sa se sono morti a causa della caduta oppure per assideramento quel che accetto è che sono stati attivati i soccorsi che per ben 72 ore dal momento in cui è stata segnalata la scomparsa dei due hanno incessantemente effettuato le ricerche fino purtroppo al momento in cui sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei due escursionisti questa è l'apertura del piccolo che poi dà spazio anche allo sport cioè la triestina onore al centenario con la triestina che ha vinto la sua partita contro la Feralpi Salò e peraltro anche inferiorità numerica e poi c'è spazio anche per il basket con l'Alma che ospita Avellino e sarà trasmessa anche in tv questa partita e a proposito approfittiamo per dire che in tv sarà trasmessa anche la gara tra la palacanestro e la GSA sulla nostra rete ovviamente la rete che trasmette in esclusiva le gare della formazione udinese a partire dalle 17.55 il collegamento con Fordi dove Massimo Fontanini ci racconterà la partita che può decidere un'ulteriore scalata in classifica per la GSA e l'aggancio alla zona che vale la partecipazione alla Final Eight di Coppa Italia quattro squadre partecipano per il Gironest quattro per quell'Ovest occorre centrare almeno il quarto posto dunque al termine del giorno di andata per poter poi partecipare alla Final Eight di Coppa Italia andiamo avanti andiamo a leggere la prima pagina del messaggero di Gorizia l'edizione che si occupa del Lisontino quindi torniamo al messaggero dopo essere passati per il piccolo di Trieste l'apertura è sul turismo l'hotel Transalpina rinasce in primavera con un investimento da 750 mila euro il sindaco Ziberna ha il progetto a un architetto di Roma in programma anche l'apertura di un nuovo Bed and Breakfast poi si parla di tassa di soggiorno con il comune che pensa di introdurre questo tipo di tassa gli incassi andranno tutti nella promozione del territorio per ricamare più gente la tassa di soggiorno è una cosiddetta tassa di scopo e cioè va utilizzata per migliorare per sviluppare il settore dal quale vengono gli introiti in questo caso dal turismo la tassa di soggiorno viene pagata da chi soggiorna nelle strutture ricettive di un comune in questo caso Godizia si paga una piccola tassa e l'ammontare delle somme raccolte deve essere utilizzato a scopo di sviluppo per il turismo visto che viene raccolto in quel settore andiamo sul gazzettino si parla in prima pagina come sempre di temi nazionali cioè l'ecotassa stop della Lega il carroccio esecutivo contrario anche al bonus il 5 Stelle attacca scontro sui tagli nella manovra torna anche l'ipotesi dell'Imu alla Chiesa caccia a 3 miliardi servono 3 miliardi per provare a garantire quello che il governo ha promesso e si è proposto di fare con il contratto di governo inizialmente con quel 2,4 di sforamento con deficit rispetto al PIL il rapporto PIL deficit debito pubblico e via dicendo e adesso c'è stata una riduzione imposta dall'Unione Europea sulla quale c'è forse un accordo sul 2,04 trattative in corso ancora oggi tra le due componenti del governo per trovare un'intesa su dove trovare i soldi che bisogna ancora tagliare per chiudere la vicenda e andare avanti portare poi la manovra all'approvazione definitiva entro la fine del 2018 qui siamo invece sulla prima pagina dell'inserto Friuli che si occupa della nostra area sul gazzettino andiamo qui a leggere il titolo centrale di apertura contessa uccisa ultima mecenate Friuli in lutto per l'omicidio della benefattrice in punta di piedi l'omaggio a terzo dove sono attesi i figli sotto la testata invece si parla di immondizia quintali di rifiuti smaltiti di nascosto camion da fuori regione portano cubi di plastica in un capannone dismesso nella zona industriale di Pannellia a Sedeiano sono stati scaricati 78 cubi di plastica pressata qualcosa come 150 tonnellate vittima dello smaltimento abusivo è un imprenditore di San Vito al Tagliamento che ha denunciato un'incursione avvenuta probabilmente il 6 dicembre scorso lo ha denunciato il carabiniero di Codroipo in passato questa azienda aveva subito furti di rame e materiale elettrico per questo motivo davanti al cancello aveva posizionato blocchi di cemento per impedire l'accesso a camion o furgoni il 7 dicembre ha scoperto che i blocchi erano stati spostati il cancello scardinato all'interno del capannone nessun furto ma sul retro si è ritrovato il desolante scenario tonnellate di plastica una situazione allarmante se a Roma o in Lombardia scoppiano i roghi il Friuli con le sue zone industriali piene di capannoni dismessi rischia di attirare i pirati dei rifiuti poi c'è spazio anche per lo sport l'Inter passa ma solo sul rigore ma di questo ci occuperemo tra poco ci fermiamo infatti per break pubblicitario torneremo e inizieremo a parlare di sport di calcio in particolare con l'Udinesi e il Pordenone ma anche di basket con la GSA che giocherà questa sera in diretta TV su Udine News TV a partire dalle 17.55 a tra poco a tra poco Grazie.